Inaugurato lo stadio di Falconara, l'atteso taglio del nastro del manto sintetico Bibolini è avvenuto proprio in questo pomeriggio. Un'opera fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Lerici che è riuscita a realizzarla in soli sei mesi e inoltre prossimamente i lavori si completeranno anche con il rifacimento degli spogliatoi. La soddisfazione è tanta perché era un'opera non scontata perché è un'opera complessa però noi l'avevamo prevista nel nostro programma perché avevamo fatto bene i conti sapevamo che l'opera era realizzabile per il comune di Lerici e sostenibile sotto il profilo finanziario oggi siamo qua a festeggiarne il completamento, la possibilità di giocarci io non vedo l'ora di dare qualche calcio al pallone e devo dire che oltre al fatto che abbiamo realizzato un campo sportivo e quindi per la gioia di chi ama giocare a pallone devo dire che si tratta di una vera e propria struttura sportiva importante perché ormai il campo da calcio non era quasi più praticabile la richiesta di intervenire era forte anche in modo diciamo meno completo di questo ci chiedevano eventualmente di rifare un campo in terra battuta perché il campo veramente non era più praticabile la polvere ormai rendeva quasi impossibile giocare ai ragazzi e oggi invece abbiamo una struttura dove si può giocare al calcio vero la gestione del campo rimane al momento al Pozzuolo ma non appena arriverà il collaudo da parte della Lega saranno le varie società di calcio del comune di Lerici ad occuparsi del campo e quindi della sua manutenzione diciamo che io sulla gestione non sono voluto intervenire ho lasciato le società libere di scegliere, di autodeterminarsi le società hanno indicato il Pozzuolo come società gestrice quindi in continuità con il passato hanno raggiunto i loro accordi noi li andremo a siglare definitivamente conferendo l'incarico formalmente alla società che assumerà tutti quelli che sono gli oneri di gestione e manutenzione del campo da calcio tante le società sportive e locali presenti in questa giornata tantissimi bambini ma anche tante vecchie glorie che sono arrivate proprio nella giornata per fare un giro di campo e prendere così parte a questa inaugurazione